Porto Buffolè è un comune veneto in provincia di Treviso, i cui abitanti sono detti portobuffolesi o portuenzi, e il padrono è San Marco Evangelista. È il più piccolo paese della provincia e il comune è stato inserito nell'associazione dei borghi più belli d'Italia, freggiandosi inoltre della bandiera arancione del Touring Club italiano. Come per Asolo, Castelfranco Veneto e Treviso, anche il centro storico di Porto Buffolè è recintato da Mura. Non ci si aspetterebbe mai di trovare questo gioiellino incastonato nella campagna trevigiana, laddove il Veneto volge ormai al Friuli. L'Alto Livenza è invece un territorio ancora vivibile, industrioso, ma attento a non disperdere le proprie radici. Porto Buffolè, nell'esempio, un borgo di impronta veneziana che conserva la grazia di una feudataria amante dell'arte e della poesia e la volubilità del suo fiume, il Livenza. Ma oggi, che non scorre più sotto i suoi ponti, il fiume è muto. Nell'ivenza regna la solitudine, il silenzio umiliante. Così scrisse Don Bruno Florian, l'indimenticabile parroco Portuense. E continua, mentre un tempo neppure molto lontano vi era un'animazione da Porto Buffolè alla Foce. Si è perso quindi l'allegro vociare dei barcaioli, il via vai dei silenziosi pescatori e di allegre brigate di nobili veneziani, ma anche di bracconieri e trasportatori. Un po' dell'antica anima, però, è rimasta nel pra dei gai, quando, inondato dalle acque dell'ivenza, il bosco diventa un lago grigio su cui volteggiano i gabbiani. Per i romani era septimum de liquenzia, perché distante sette miglia da Oderzo. L'allora Opitergium è situato in un'ansa del fiume livenza. Continuò a chiamarsi settimo per molto tempo, finché intorno al mille cominciò a comparire Portus buvoledi o bufoledi, che deriva non tanto da bufalo, come comunemente si pensa, quanto piuttosto dal latino medievale bova, che significa canale. Anche se, secondo alcuni, l'origine va cercata nelle bufaline, barche usate per il trasporto delle merci via fiume. È il cento dopo Cristo quando lo scrittore latino Tito Livio informa dell'esistenza di un Portus liquenziae, il modesto insediamento di pescatori e agricoltori sul fiume livenza, conosciuto dai romani come septimum de liquenzia. Poi, nel 1905, un documento parla di Castrum in Portum, facendo supporre l'esistenza di un sistema difensivo già consolidato. È invece, nel 997, il primo documento storico che attesta l'esistenza del castello, Castro et Portu in loco septimo. È un contratto d'affitto con il quale il conte vescovo di Ceneda, concede al doge di Venezia l'utilizzo del porto di Settimo. Nel 1499 i turchi misero a ferro e fuoco il territorio. Nel 1524 arrivò la peste e mette molte vittime. Nel 1628, nella giurisdizione di Porto Buffolè, morirono di fame 244 persone e nel 1631 un'altra pestilenza colpì la zona. Nel 1965 e nel 1966 due alluvioni sommersero il paese rovinando ogni cosa e lasciandovi un mare di fango e detriti.